Ciao Mattia! Mentre io mi tolgo le scarpe, tu mi racconti di questa barca che credo fosse la preferita da Carlo Riva, no? Sì, infatti l'ha chiamata Ariston, che in greco vuol dire il migliore. Il migliore? Sì, perché prima di arrivare a questa barca, questo tipo di barca si chiamano Runabout, che è la tipologia di barca. Sì, sì, vai tu. Che è la tipologia di barca. Sì? Prima di arrivare a questa, diciamo, perfezione di linee, sono passati tanti anni e l'ha rivista, l'ha ingrandita, l'ha modificata, ha cambiato i motori, ha cambiato le forme. Infine ha fatto questa, che secondo lui era la perfezione, dove non ci sono spigoli, se ci fai caso, è tutto morbido, perché diceva che in barca lo spigolo è molto pericoloso. Senti, io ho una mia amica, la signora Maria, che è molto appassionata di questa trasmissione, ogni volta mi fa delle domande che a me non vengono. Allora lei mi chiede, ma tipo George Clooney c'è salito su questa barca? Sì, è stato proprio su questa barca. Ah, proprio su questa. Su questa qua. Tu fai delle gare. Facciamo delle gare, esattamente. Le gare sono composte da varie prove, la più divertente è il concorso d'eleganza, ci danno il tema della gara e noi ci vestiamo in maniera adeguata al tema, perché faccio parte di un gruppo di appassionati che si chiama Riva Historical Society, che c'è in tutto il mondo, per cui arrivano da tutto il mondo. Tu lo avevi preso solo per fare il bello o anche per... No, no, a me piace andare, devo dire, ho anche fatto qualche piccola modifichina al motore, lasciamo stare. Non si dice, non si dice, tutto originale. Allora andiamo. Andiamo, sì. Allora andiamo. guarda ho il grande piacere di provare a fartelo guidare se vuoi vai proviamo va bene avanti vai vai bello vai deciso in fondo le nostre grandi star da sopia loren vabbè francese brigitte bardo amavano solo i riva ora le capisco e adesso puntiamo verso bellagio quella è bellagio e andiamo dove si biforca dove c'è il pezzo di lago che vale ecco ciao marco eccoti visto ero quello su riva eh in effetti Aristo e d'altronde sul lago di Como che riva un mezzuccio niente male direi il mio c'è proprio il mio il tuo ciao